Musica Benvenuti ad una nuova puntata delle Regole di Tozzi Geopaleo Diet Show. Ben ritrovati in studio. Oggi parliamo di una malattia che coinvolge le articolazioni, la gotta. La gotta era già conosciuta ai tempi di Ippocrate e considerata la malattia della nobiltà, quindi legata ad una società dell'opulenza. Ricordiamo alcuni nomi celebri che soffrivano di questa patologia, come Carlo Magno, Giulio Cesare, Luigi XIV e tanti altri ancora. Benvenuto Claudio Tozzi. Benvenuta, Francesca Rasi, la presentatrice delle Regole di Tozzi Geopaleo Diet Show. Allora Claudio, parliamo della gotta, ma perché è considerata la malattia della nobiltà? Perché nel passato chi mangiava tanto erano in pochi, quindi è chiaro che si notava, perché dava dei dolori molto forti, specialmente al piede. E quindi ovviamente si era visto che soltanto le persone nobili, come hai detto tu prima, erano toccate a questo problema e quindi piano piano nacque la legge. Perché è una leggenda in realtà che soltanto le persone ricche si ammalavano di gotta. In realtà non è proprio così, perché non dipende da fattori come per esempio troppa carne, come tutti pensano, anzi la puntata è basata proprio su questo, distruggere questo onito qui. Quali sono i sintomi di questa problematica? Allora, sono fortissimi dolori articolari, in particolare alle dita del piede. E sono dolori molto forti, fortissimi, che possono rendere veramente invalido la persona, perché non riesce proprio a camminare e in particolare vengono di notte, per questione di stasi dell'acido urico. E provoca anche un gonfiore ai piedi, agli archi inferiori. Prechente si tratta di acido urico cristallizzato, che ovviamente essendo cristallizzato si va a infilare in mezzo fra un'articolazione e l'altra, rendendo la cosa dolorosissima. Qual è l'incidenza della gotta nella popolazione? Ho sentito dire che negli uomini si manifesta nell'età tra i 60 e gli 80, quindi in età avanzata, mentre le donne un'età tra i 40 e i 60 anche in base alla menopausa. Sì, te lo confermo, sono l'uomo più colpito giornalmente dalla donna dalla gotta. Infatti tutto l'elenco di personaggi erano tutti uomini, personaggi famosi erano tutti uomini. Tra l'altro tutti i personaggi illustri, addirittura c'era il famoso Piero di Cosimo dei Medici, detto il Gottoso. Appunto, questo sovrannome era dato proprio da questa, probabilmente aveva una forma molto aggressiva della gotta, che è il padre di Lorenzo dei Medici. Senti, andando nello specifico, ma qual è il motivo di questi dolori che provoca la gotta? Da dove arrivano? Allora, noi abbiamo questo prodotto di scarto che si chiama acido urico, contenuto, ecco, è lì il problema, nella carne, contenuto anche nella carne, e ovviamente da che mondo è mondo, come posso dire, essendo contenuto dalla carne, la colpa è stata data dalla cristallizzazione dell'acido urico della carne, e quindi la carne fa male. Quindi, secondo, diciamo, la nomenclatura ufficiale medica, è un eccesso di acido urico che in alcune persone non fa nulla, e in alcune persone è particolarmente predisposta e cristallizza, andando nell'articolazione e provocando forti dolori. L'alta incidenza della popolazione che soffre di obesità o diabete, quindi può essere collegata alla gotta? Sì, e qui è il punto focale della questione, Francesca. Allora, perché c'è un'altra teoria che sdradica il concetto tanta carne, malattia, gotta, ed è il concetto che noi abbiamo un enzima che si chiama uricasi, ok? Che in realtà però con l'evoluzione è presente bloccato, non funziona più. Però in realtà tutti gli altri animali lo hanno. Cosa fa questo uricasi? L'uricasi è proprio quello che limita le quantità di acido urico nel sangue. Quindi cosa vuol dire? Che negli animali la gotta non c'è perché l'uricasi è attiva, noi l'abbiamo, però nel corso di milioni di anni di evoluzione, piano piano, si è spenta tramite due mutazioni genetiche. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che noi, insieme ai primati, insomma alcune scimmie, condividiamo questa situazione, in pratica non avendo un enzima che controlli questa sostanza, in pratica accumuliamo un po' di più di acido urico degli altri animali. E questa situazione può provocare alla lunga vari problemi, fra cui appunto la gotta, in persone predisposte. Quindi la gotta sostanzialmente dipende dall'uricasi? Dipende dal fatto che noi, nell'uomo sapiens, l'uricasi è spenta, quasi totalmente spenta. Dove nasce questa storia dell'uricasi? Nasce attorno a 15 milioni di anni fa. Come sempre, tutto arriva dal passato, anche noi. Beh, questo è già un po' lo dead show, eh? No, dieta mediterranea show. Nel passato, fra i 15 e i 17 milioni di anni fa, noi eravamo in grande, come posso dire, spolvero, dal punto di vista dei nutrienti. Mangiavamo frutta, verdura e quant'altro. Ricordiamoci che eravamo ancora, diciamo, imparentati con le scimmie. Dopodiché ci fu un cambiamento climatico in Europa. Ricordiamoci che basta spostare l'asse, che l'asse del resto si sposti di pochissimo per cambiare completamente le temperature del pianeta. E quindi creare spostamenti, creare carestie, creare, diciamo, ambienti nuovi, no? Per esempio, facciamo dire, il Sahara era al piano d'acqua, no? Stessa cosa in Europa. Quindi che è successo? In pratica, una carestia, è venuta una carestia fra i 15 e i 16 e i 17 milioni di anni fa. Questa carestia ha provocato una carezza di frutta, soprattutto d'inverno. Allora, cosa ha fatto la natura? Ha creato, ha abbassato, diciamo, la potenza dell'uricase di questo enzima in modo da aumentare un pochino il livello di acido urico nel sangue. Ma ricordiamoci che a quel tempo era una scarsità. Quindi, avere una quantità di acido urico più alta nel sangue predisponeva a un maggior accumulo di, per esempio, di scorte di grasso. Gli uccelli, gli animali, tuttora, gli uccelli migratori, prima di partire per il lungo viaggio, che può durare, che so, 5.000 km, si ingrassano, diventano obesi. Proprio perché loro devono sfruttare un accumulo di grasso per il lungo viaggio. La stessa cosa succedeva a noi. Visto che c'era una scarsità, l'evoluzione ha favorito uno smorzamento dell'uricase in modo da aumentare l'acido urico, in modo da accumulare più grasso, in modo da essere, ovviamente, avere maggiore probabilità di sopravvivenza. Adesso questo uricase è un disastro, ovviamente, perché non c'è quella scarsità di frutta e di altri cibi che c'era. Quindi per noi è un accumulo esagerato di acido urico che può dare ricotta, che può dare diabete, perché c'è una sregolazione della glicemia e quindi dell'insulina, e quindi viene il diabete. E tutto questo è dovuto, pensate, a 15 milioni di anni fa. Chiarissimo. Senti Claudio, parlando di frutta, abbiamo citato la frutta, quali sono i cibi che contengono il fruttosio? Così chiariamo un attimo anche questa questione. Sì, perché il fruttosio è la chiave di volta del problema della gotta. La gotta non dipende solo dalla carne, in parte dipende anche dalla carne, ma in realtà, diciamo, l'assassino si chiama fruttosio. Ma non tanto il fruttosio solo contenuto nella frutta, ma diciamo il fruttosio, chiamiamolo, industriale. Ma il fruttosio... E quello è industriale. Il fruttosio che a volte nelle diete si consiglia al posto dello zucchero per utilizzare proprio il barattolo del fruttosio che si mette nel caffè, anche quello. Negli anni 80 il fruttosio diventò famoso per questo, perché il fruttosio ha una caratteristica, è un dolcificante più potente dello zucchero, quindi si appena... E tra l'altro c'ha un'altra, diciamo, caratteristica fondamentale, ha un basso indice glicemico, c'ha 19. Quindi il fruttosio va bene? No, per niente proprio. E il dolcificante quale possiamo usare? Il dolcificante va benissimo anche un po' di miele e un po' di succo d'agave. Però, attenzione, anche il succo d'agave, per esempio, contiene fruttosio. Anche la mela contiene fruttosio. Anche la pera contiene fruttosio. Anche la birra contiene fruttosio. Quindi, oppure la Coca-Cola americana contiene sciroppo di mais alto contenuto di fruttosio. Quindi, paradossalmente, tutte le cose che non sono carne, in realtà, aumentano il fruttosio. E il fruttosio ha la caratteristica di aumentare l'acido urico. Quindi, tutti questi frutti che hai appena citato, che contengono fruttosio, secondo te sono da eliminare completamente o da ridurre la quantità? Vorrei chiarire, io non stiamo parlando della gotta. Chi ha la gotta dovrebbe praticamente eliminare la frutta, la birra, soprattutto il succo d'agave e poi, tutti i dolcificanti, le bevande che contengono sciroppo di mais alto contenuto di fruttosio, che in Italia già da qualche decennio sono presenti. Bene, ci fermiamo un attimo e diamo i consigli per gli acquisti a casa. Vuoi sapere di più sulla paleochetogenica? Allora non puoi rinunciare a Il Potere dei Chetoni, dove nessun uomo è mai giunto prima. La più grande opera sulla paleochetogenica. Oltre 25 ore di video lezioni in 12 DVD. 6 fascicoli, 635 pagine. Il Potere dei Chetoni, la più grande opera sulla paleochetogenica. Per il controllo della fame e delle dipendenze da cibo. Per l'efficienza mentale e per la concentrazione ai massimi livelli. Per l'incremento esponenziale della salute. Il Potere dei Chetoni. Acquistalo su geopaleodietshop.com Eccoci, bentornati in studio. Parliamo della gotta, questa malattia infiammatoria che coinvolge le articolazioni. Claudio, parlavamo del livello di fruttosio nella frutta e quindi nei cibi. Vogliamo chiarire bene quale frutta si può mangiare? Perché di solito la frutta è insomma un cibo straconsigliato. La frutta è un ottimo cibo per alcuni. Meno consigliato per altri. Ricordiamoci che stiamo facendo una trasmissione che si chiama The Geopaleodite Show. Cioè Geographic Palo Diet. Cosa vuol dire Geographic Palo Diet? Vuol dire un'alimentazione basata sulla provenienza etnica della persona. Ogni persona è il risultato di una mescolanza di DNA data dai genitori, dai nonni, dai bisnonni fino alla notte dei tempi. E a seconda della popolazione da cui derivano ovviamente avrà una certa diciamo composizione del DNA a seconda dei cibi che hanno consumato i loro progenitori. È ovvio che i loro progenitori se consumavano grandi quantità di frutta ovviamente la cotta probabilmente non gli verrà perché avranno una gestione del fruttosio positiva. Anche un'abitudine. Si può parlare di abitudine. Perché allora dovrebbe venire a tutti la cotta. Perché viene soltanto all'1-5% della popolazione. Perché ovviamente il corpo piano piano si è adattato e perché ovviamente l'evoluzione tende a migliorare e adattarsi ai cambiamenti esterni. Anche se a volte non lo fa. Anzi, la paleo diet è basata sul fatto che a volte non ci riesce. Perché se noi ci fossimo adattati alle farine ai cereali ai legumi ai latticini non ci sarebbero problemi. Non è successo e quindi esiste la geopaleo diet. Diet mi fa pensare al famoso detto dimmi dove vai e ti dirò chi sei. In questo caso dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei. Esattamente. Perché è fondamentale conoscere da dove veniamo per capire bene che alimentazione possiamo insomma utilizzare. Guarda, Francesca, faccio un esempio estremo. Mettiamo che tu sei un discendente degli schimesi degli inuit e quelli mangiano soltanto tutt'ora resistono mangiano soltanto pesci grassi e foghe. cioè i carboidrati non li toccano. Quindi avranno un'abitudine a mangiare pesci grassi. Quindi il loro DNA si è settato nei millenni su grassi e proteine. Se d'altra parte per esempio sei un discendente di un nativo hawaiano i nativi hawaiani mangiano soltanto per l'80% una patata che si chiama taro una patata locale e poca altro. Quindi non esiste quando si parla dell'alimentazione ideale per esempio la dieta mediterranea è un'altra stupidaggine. perché nemmeno la dieta mediterranea vale per tutto il mondo. E poi non esiste una dieta uguale per tutti. Non è possibile. È sempre individualizzata. Non è possibile. Ti dico di più per esempio io parlo spesso ho fatto anche un corso appena uscito il DVD e i libri sulla dieta ecotogenica. La dieta ecotogenica si basa sul fatto che le persone non devono consumare più di 30 grammi di carbidrati al giorno. Perché? Perché nel passato la frutta in alcune zone del mondo era rara. Cioè la frutta adesso c'è il frigorifero la mangi ma a quel tempo non so c'era la frutta stagionale la mangiare lì per lì e poi per mesi non la vedevi più. Quindi la frutta non era così diffusa. Mangiare frutta tutto il giorno potrebbe essere per alcune persone dannoso come per esempio dare la gotta. Claudio invece abbiamo un attimo citato la carne. Perché dicono che la carne insomma è grave per la patologia della gotta? Perché loro dicono che la carne contiene un'altra quantità di purine che possono dare ovviamente poi l'acido urico l'acido urico poi cristallizza e poi va l'articolazione e fa male. Il concetto è questo che in realtà il problema è il fruttosio il fruttosio non solo quello contenuto nella frutta ma quello contenuto che può dare nella birra quello che è contenuto nei sciroppi nelle bevande che hanno sciroppi di maest alto contenuto di fruttosio nella coca cola americana in alcune bevande che stanno qua in Italia nel socco d'acqua nella mela nella pera e quindi se uno dice vabbè io mangio la mela la pera che fanno benissimo se c'è la cotta non va bene perché contiene fruttosio quindi fruttosio no è dolcificante zucchero di canna no perché non è paleo lo zucchero in generale non è paleo tranne per esempio il miele il miele fa bene però se uno c'è la cotta anche il miele ha un 50% di fruttosio quindi il miele è anche un mezzo cucchiaino di una tazzina di caffè ma per le persone diciamo che non hanno la cotta non c'è problema c'è stato un ritrovamento in Egitto con il miele ancora dentro i contenitori e si può anche in realtà mangiare ancora perché il miele non scade mai ok Claudio quindi possiamo dire che c'è un collegamento tra un accumulo di acido urico obesità e diabete per la cotta questa è una delle teorie più affascinanti degli ultimi anni che addirittura sia proprio il problema del genere uricasi che si è spento questo genere uricasi fa accumulare un po' più di acido urico che in realtà non sarebbe problematico perché il corpo bene o male riesce a gestirlo ma questo accumulo di acido urico in condizioni di sovrabbondanza perché era nato da una condizione di sottocarenza può creare un accumulo in particolare se consumi alte quantità di fruttosio un accumulo di acido urico esagerato perché perché il corpo pensa che tu stai in carenza quindi aumenta la glicemia aumenta l'insulina per farti ingrassare in modo che se c'è la carestia tu almeno puoi sopravvivere il problema è che la carestia non c'è non solo non c'è ma tu continui a mangiare quella cosa là quindi creando un continuo livello alto di insulina che ti fa ingrassare ma poi ti fa avvenire pure il diabete specialmente quello tipo 2 ok quindi per chi soffre di gotta intanto come fa a scoprirlo dal dolore è un dolore molto acuto un dolore fortissimo che è invalidante invalidante che può durare al piede di solito di solito il piede può venire tipo anche al gomito alle mani altre articolazioni però di solito il piede è il più famoso quindi se una persona soffre di gotta cosa è che dovrebbe escludere in toto deve eliminare almeno per un periodo per fare delle prove ovvio eliminare tutta la frutta specialmente il succo d'agave come dolcificante specialmente la coca cola e le mele le pere e anche la e le birre bevitori in ascolto assolutamente sì la birra è una delle peggiori per quanto riguarda la produzione e anche abbassare un po' il livello di carne ma perché se tu mangi frutta birra quello e quell'altro anche la carne può contribuire per carità però non è quello la chiave quindi creiamo una dieta ideale per chi soffre di gotta così partendo dalla colazione la dieta ideale per chi soffre di gotta è quello che mangia carne pesce poca frutta e un po' di verdura ok a colazione e non devo utilizzare mai i dolcificanti miele succo d'agave non bere birra colazione tipo colazione tipo può fare per esempio può fare delle uova può fare mangiare anche un succo d'arancia però sempre poco perché è l'unica cosa che può mangiare come frutta mangiare la giornata e poi l'arancia non ha un contenuto altissimo di fruttosio non deve utilizzare mai il fruttosio quello industriale quello che troviamo bianco che si trova nei supermercati perché quello non solo predispone alla gotta che comunque parliamoci cari è abbastanza rara ma predispone al diabete di tipo 2 cioè questa carenza questo enzima spento che abbiamo se noi cominciamo a mangiare tanto fruttosio può dare ipertensione obesità e poi diabele che sono malattie molto grave allora vogliamo dare dei dati sì allora nel 2030 è previsto che l'obesità sarà la quarta causa di morte al mondo in tutti i paesi perché io penso all'America penso agli Stati Uniti quando penso alle persone obese assolutamente sì anche se io ho la fortuna di andare spesse volte negli Stati Uniti e dipende dagli stati Francesca ci sono gli stati per esempio quelli Florida e California cioè quelli stanno alle sponde opposte che stanno sul mare diciamo sul mare quindi c'è una vita migliore in realtà tutti i soprabesi non ce ne sono esatto io sono stato recentemente a Miami anzi siamo veramente tutti informissimi al contrario ho visto soltanto un soprabeso e la cosa cambia completamente nei stati interni Midwest è così perché in pratica nei stati interni probabilmente non c'è si crea ma soprattutto sono un po' più poveri i stati interni la povertà ha sempre un collegamento con l'obesità perché perché ovviamente con meno soldi sempre gli stessi cibi con meno soldi compri più carboidrati perché costano di meno rispetto alla carne e al pesce purtroppo è così non a caso mi hai dato un buono spunto Francesca perché in questo momento di coronavirus negli Stati Uniti quelli che muoiono di più sono proprio i neri e gli ispanici rispetto ai bianchi e non casualmente non casualmente i neri gli ispanici negli Stati Uniti sono fra i più obesi in assoluto e sappiamo dalla scienza che il covid colpisce soprattutto anche al di sotto degli 80 anni gli obesi e le persone sono appese bene dopo questa pillola di geografia e obesità ci fermiamo un attimo per i consigli virus meno letali il nuovo libro di Claudio Tozzi modula subito il tuo sistema immunitario con la Keto Geo Paleo Diet ecco l'innovativo programma alimentare per modulare il tuo sistema immunitario quali vitamine sono fondamentali e se la loro carenza fosse la causa delle pandemie virus meno letali il nuovo libro di Claudio Tozzi modula subito il tuo sistema immunitario con la Keto Geo Paleo Diet perché la dieta mediterranea è parte del problema nel libro troverai tutte le prove scientifiche delle interazioni con cereali latticini e legumi l'elenco dei cibi consigliati per alzare gli scudi intorno al tuo corpo e come proteggersi dalle future ondate di pandemia virus meno letali il nuovo libro di Claudio Tozzi Modula subito il tuo sistema immunitario acquistalo su geopaleodietshop.com Eccoci bentornati in studio parliamo della gotta questa malattia infiammatoria che colpisce le articolazioni che se non è trattata può avere un impatto molto negativo sulla qualità della vita vero Claudio? Guarda ti confesso un episodio personale non a me perché si sarebbe ma come tu che fai la paleo? no purtroppo mio padre mio padre tantissimi anni fa mi ricordo stavamo tutti in casa in famiglia ha cominciato a strillare e ha passato me lo ricordo benissimo perché fu veramente una cosa terribile tutta la giornata per terra a strillare tenendosi il piede non riusciva nemmeno a camminare a dolore non si avevamo che fare perché non sa che fare e quanto è durata questa cosa? tutta la giornata penso dalla mattina alla sera sicuramente è invalidante perché ti costringe a stare fermo a letto sdraiato è un dolore ecco un crampo un crampo che ti prende il piede che dura però 12 ore non è bello senti Claudio abbiamo parlato prima di uomini e donne fasce età differenti quindi gli uomini abbiamo ricordato tra i 60 e gli 80 anni e le donne tra i 40 e i 60 invece la mia curiosità è sugli adolescenti esiste anche? allora sugli adolescenti la gotta è meno ha meno incidenza effettivamente però volevo parlare di una degli esperimenti che hanno fatto hanno preso degli adolescenti obesi e con l'ipertensione hanno fatto e hanno voluto provare la teoria che collega l'uricasi acido urico l'obesità e il diabete allora cosa hanno fatto? hanno dato loro a questi adolescenti hanno dato un farmaco che abbassa a livello di acido urico che è la lupurina e effettivamente che è successo? che sono dimagriti e gli si è abbassata l'ipertensione quindi c'è sicuramente un collegamento già da giovani fra obesità diabete acido urico uricasi spenta e questo noi dobbiamo tenere conto poi c'è chi come abbiamo detto è un elemento utile per controllare guardate questa ipotesi fu fatta qualche anno fa sul Scientific American cioè non l'ha fatta su Donna Moderna insomma quindi su riviste scientifiche ed è una interessante teoria perché se io prendo un farmaco una sostanza che abbassa l'acido urico e mi si abbassa e dimagrisco e non mi si toglie l'ipertensione beh qualche domanda bisognerebbe farcela anche perché di solito adolescenti mangiano male certo non hanno un controllo insomma anche nelle soprattutto nelle uscite la birra non parliamo della birra e tutto il resto insomma Coca Cola senti Claudio parlando di vegani e vegetariani utilizzano spesso l'uricasi come propaganda no? per come dire assurgere la loro potenza la loro importanza faccio fatica faccio fatica faccio fatica a parlare dei vegani e vegetariani perché io dovrei scrivere il libro nero dei vegani e vegetariani perché quante sciocchezze riescono a dire sulla diciamo per dimostrare la loro teoria è incredibile in particolare loro dicono che tutti gli animali carnivori hanno l'uricasi l'uomo non ce l'ha e quindi l'uomo non deve mangiare carne questo è il ragionamento loro gli è sfuggito agli simpatici amici anzi nemici vegani e vegetariani che l'uricasi noi ce l'abbiamo e si è appunto avuto questa mutazione genetica per il semplice fatto che 15 milioni di anni fa mangiavamo frutta soltanto frutta praticamente e c'è stata una carestia quindi per cercare di resistere la carestia ha abbassato il livello di attività quindi l'uricasi c'è e che è sopita anche qui come al solito hanno toppato allora parliamo di integrazione quali sono gli integratori che ci permettono di abbassare il livello di acido urico nel sangue allora è stato dimostrato che per esempio la vitamina c può abbassare il livello di acido urico quindi per esempio se una persona ha la gotta è meglio che fa la giopalo diet con poca frutta o la dieta ecotogenica certo però sarebbe meglio che provasse a prendere della vitamina c magari sotto controllo vero vogliamo fare un recap come dire sintetico di tutto l'argomento gotta per gli amici da casa in modo da essere come dire utili per una consapevolezza perché alla fine le persone giustamente vogliono una guida ci piace essere anche pratici e sintetici ma anche perché è una patologia di cui si sente parlare davvero poco quindi si si sente hai ragione io francamente fin da piccolo ho sentito sempre questa cosa la gotta ma la ti ha dei ricchi basta ma in realtà non è molto diffusa allora grazie a Claudio Tozzi oggi abbiamo un grande recap riassunto però insomma qualcuno c'è che ce l'ha e calcolate che noi abbiamo questa credo che sia la settantesima puntata quindi io cerco piano piano settantatresima settantatresima ero già rimasto indietro la settantatresima puntata della trasmissione e ovviamente cerco di andare a prendere anche quelle persone che magari hanno una malattia che non è fondosa però stanno male sono serio che vuol dire cioè come poi il concetto delle malattie rare no non le studiano mai perché le ce l'hanno in pochi quindi non conviene non conviene e invece è importante studiarle anche se se in pochi comunque soffri quindi facciamo questo riassuntino il riassuntino della gotta che la carne è un problema assolutamente relativo è legato evidentemente quasi sempre al fruttosio quindi si fa una geopalo diet normale però con una frutta limitata quindi si fa si può mangiare carne pesce verdure però la frutta probabilmente non più di un frutto due al giorno e andrebbe esclusa sia la mela che la pera vanno levate tutte le bevande cassate va eliminata nel caso la birra cioè va eliminata nel caso nel senso sempre cioè non solo nel caso nel senso se fai la geopalo diet è ovvio che la elimini se non vuoi fare la geopalo diet la birra comunque la devi eliminare e poi prendere magari la vitamina c perché abbassa il livello di acidurico bene questo è il consiglio che possono essere posso dirvi questo che mediamente ormai sono tanti anni che faccio divulgazione nell'ambito paleo ma hanno scritto diverse persone a cui hanno visto già delle mie io ho fatto diverse lezioni sulla gotta già anni fa e hanno detto sono entrati in paludà e la gotta è scomparsa mangiando più carne cioè mangiando più carne questa è la dimostrazione che la teoria di parte della medicina ufficiale che la gotta dipende dalla carne è totalmente sbagliata bene allora approfitto per ricordare ai nostri amici il tuo nuovo libro eccolo qua virus meno letali di Claudio Tozzi mentre tu se vuoi ricordare l'altro librone il potere dei chetoni sì a proposito di dieta chetogenica questo lavoro il potere dei chetoni sono 12 DVD 25 ore di lezione e eccolo qua anche il librone di 628 pagine di 6 volumi che dimostra diciamo tutto quello che c'è da dire sulla paleo chetogenica come farla come progettarla a cosa serve è un lavoro che è durato 4 giorni l'ho ripreso diciamo per darlo anche a chi non è intervenuto al corso è molto interessante ve lo consiglio assolutamente bene allora la nostra puntata è quasi terminata io vi ricordo il nostro indirizzo email scriveteci info chiocciola geopaleodiet.com per tutti i vostri dubbi curiosità per tutto quello di cui avete piacere no di ascoltare per consigli su cibi sport alta alimentazione sicuramente un miglioramento del nostro stile di vita che è sempre più colpito da uno stress oggigiorno quindi insomma questi consigli utili sicuramente servono a ognuno di noi per migliorare le nostre giornate perché no anche il nostro sonno e le nostre nottate parleremo poi in seguito la gotta viene di notte soprattutto di notte la gotta viene di notte la gotta viene di notte e allora grazie a tutti per averci seguito vi ricordo che trovate in sovrimpressione tutti i nostri social continuate a seguirci e arrivederci alla prossima puntata ciao ciao salve a tutti Burro Ghì Brado proveniente da mucche allevate ad erba alto contenuto di vitamina K2 e vitamina D solo puro grasso 100% no lattosio no caseina no frigorifero ricco di acido butirrico fondamentale per la salute dell'intestino Burro Ghì Brado acquistalo su geopaleodietshop.com Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti